Ciao a tutti amici visionari, chiamate il cinema e le serie tv come me, io sono Laura Buffa del sito visionaire.fm e in questo tempo di quarantena ho deciso di dedicare una playlist del canale youtube di Visionaire alle serie tv alle recensioni ma anche alle segnalazioni, visto che abbiamo tempo magari possiamo scoprire una serie nuova oppure recuperarne una che ci intrigava però magari non abbiamo avuto tempo di vederla mi piacerebbe scambiare delle opinioni con voi quindi vi dirò cosa penso io delle serie che ho visto vi chiedo di fare altrettanto, di scrivermi qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi e se avete delle serie da segnalarmi, da vedere, così un po' come se fosse un passaparola fra amici oggi vorrei parlarvi di The Mandalorian su Disney Plus se vi sentite degli orfani di Star Wars, quell'originale, un po' come me, era una fan patita numero uno The Mandalorian fa per voi, si respira quell'atmosfera che abbiamo sentito e respirato quell'atmosfera epica della prima trilogia, quella con Luke, Leia e Han Solo per intenderci il racconto ha ritmo e tiene incollati allo schermo collaborazioni eccellenti, potete vederle, scoprirle guardando i titoli di coda o i titoli di apertura per un risultato davvero eccellente, anche la colonna sonora è azzeccatissima e poi non si può non amare Baby Yoda, da vedere assolutamente vi è piaciuta questa serie, se anche a voi è piaciuta scrivetemelo qua sotto oppure scrivetemi anche se non vi è piaciuta ci tengo tanto a sapere cosa pensate voi e ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao